Cristo risorto! Buona giornata carissimi fratelli e sorelle! Dal mattino ci mettiamo alla presenza di Dio, alla presenza della Sua parola, per attingere nuovo vigore per vivere questo giorno. Allora, accogliamo la lettura del Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, versetti 29-37. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e salito sul monte, lì si fermò. Attorno a Lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Gli deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e lo dava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse, «Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero, «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare, una folla così grande?» Gesù domandò loro, «Quanti pani avete?» Dissero, «Sette e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli. E i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, sette sporte piene. Amen. Leggiamo oggi anche la prima lettura dal libro del profeta Isaia, capitolo 25, 6, 10. In quel giorno preparerai il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato, perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci e esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Amen. Carissimi, oggi abbiamo ascoltato due letture meravigliose che ci accompagnano in questa prima settimana di Avvento. Il Signore è vicino a noi. Il Signore anche oggi ci ha fatto gustare la Sua parola. Una parola che nel Vangelo ci parla delle opere che Gesù stesso è venuto a fare in mezzo a noi. Guarigioni, liberazioni, miracoli e segni come la moltiplicazione dei pani e dei pesci. A Dio nulla è impossibile. E noi lo vediamo anche in questo periodo, vi ho detto che vorrei giorno dopo giorno anche affrontare la lettura di questi meravigliosi profeti che hanno preparato secoli prima la venuta del Messia. Oggi Isaia, al capitolo 25, parla di una gioia messianica, parla di un banchetto messianico, meraviglioso. Perché sappiamo che in questo primo periodo di Avvento noi stiamo guardando ad un'attesa della seconda venuta di Gesù, quindi l'attesa escatologica. Ma quante volte abbiamo più in mente un giudizio universale di paura, di spavento, che non una venuta di un Dio misericordioso. Spesso noi abbiamo in mente il Paradiso, il Regno dei Cieli come qualcosa di noioso, che non conosciamo e quindi di cui ci stuferemo. Quindi viviamo più a lungo sulla terra e godiamo dei beni presenti, quando invece il profeta Isaia dice che sarà l'opposto. Dice è sul monte di Dio, alla presenza di Dio, che ci sarà un banchetto di grasse vivante, un banchetto di vini eccellenti, cibi succulenti, vini raffinati. Che meraviglioso esempio che ci dà il profeta. E quante poche volte noi pensiamo al cielo, al Paradiso come un luogo di gioia, un luogo dove si mangia e si beve bene. E chiaramente il profeta parla in un modo umano ed è giusto che sia così, altrimenti, lo ha detto anche Gesù stesso, se non capite il modo mio di parlare umano non capirete le cose che io vi dirò per il Regno dei Cieli. Ecco allora che il profeta poi dice che Dio eliminerà su questo monte, quindi alla sua presenza, il velo che copriva la faccia di tutti i popoli. Eliminerà la sofferenza, la malattia e la morte. Che potenza, fratelli e sorelle, questa parola. Quanto poco la conosciamo e quanto poco ci crediamo. Dio viene per eliminare il male. L'avvenuta di Gesù, fratelli e sorelle, quella che stiamo attendendo in questo avvento, è un'avvenuta per salvare l'uomo. Non è un'avvenuta nella mia mente, non è un'avvenuta come romanticismo, viene Gesù bambino, facciamoci regali. Non è un'avvenuta sentimentale. L'avvenuta di Dio è stata sempre concreta nel modo di vivere la fede di Israele. Nel periodo biblico, prima di Cristo, si è sempre atteso in un modo concreto. E con Cristo c'è stata l'avvenuta così concreta che il verbo si è fatto carne. E Gesù, lo abbiamo oggi ascoltato nel Vangelo di Matteo, è stata quella cosa più concreta, quella persona che ha amato in un modo più concreto che non può esistere nessun altro, carissimi amici. Perché Gesù, che è Dio, che è figlio di Dio, ha guarito zoppi, storpi, ciechi, sordi e altri malati. Li ha liberati. E non possiamo dire che quindi la fede è una cosa psicologica. Gesù ha fatto quei segni e li compie ancora oggi. Ma in più, con la sua morte e la sua risurrezione, ha sconfitto per sempre la morte. Ecco cos'è l'avvento. Chiedere a Dio che si manifesti nella mia vita per fare esperienza. Che Dio eliminerà la morte per sempre. Questo è lo slogan di oggi, fratelli e sorelle. Ve lo ripeto. Dio eliminerà la morte per sempre. Isaia 25, 8 Questa è parola di Dio. Questa è una parola concreta. Ma noi, lo sappiamo, abbiamo paura del male, delle malattie, delle sofferenze, della morte. E quando noi abbiamo paura della morte, non ascoltiamo la parola di Dio. Perché la parola di Dio mi dice che Cristo, morto, risorto, ha sconfitto tutti i mali, ma soprattutto il nemico nostro peggiore, che è la morte. Allora, confidando nel Signore, confidando nelle sue promesse, oggi, come dice il profeta stesso, rallegriamo, ci esultiamo per la sua salvezza. Chiediamo a Dio di avere un cuore sereno, un cuore che non si affanna, un cuore che non si preoccupa per nulla. Quanto tempo noi perdiamo a preoccuparci, affannarci, correre, scoraggiarci, invece di dedicare venti minuti, mezz'ora a leggere la parola di Dio, pregare la parola di Dio. Mettiamola in pratica nella nostra vita. Prendiamo oggi da soli Isaia 25, Matteo 15, prendiamola in mano e proclamiamo questa parola. Questo è essere cristiani. Non è solo ascoltare quattro, cinque versetti del giorno e dopo viviamo così, che il Signore ce la mandi buona. essere cristiani è accogliere la parola, viverla, proclamarla, crederci, sperimentare che si fa carne come Gesù stesso in questo Natale si farà carne per te e per me. Amen. E allora preghiamo insieme allargando le nostre braccia e dicendo «Vieni, Signore Gesù, vieni nella mia vita oggi, io ho bisogno di te, Maranatà. Vieni, Signore Gesù, e donami un incontro personale con te, un incontro personale con il tuo amore, con la tua misericordia, con la tua potenza. Signore Gesù, quante poche volte sperimento che tu sei vivo, che tu sei più grande di ogni male, sei più grande delle mie malattie, delle mie solitudini, delle mie sofferenze. Quante volte, oh Signore, mi lascio scoraggiare, mi lascio vincere da tanti pensieri negativi e non leggo, non proclamo la tua parola. Io ti chiedo perdono, Signore, se mi lascio deviare dalle circostanze. Donami di ancorarmi a te oggi, di credere in te, che anche oggi puoi compiere guarigioni, miracoli, liberazioni nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. Io confido in te che sei più grande di ogni male e che tu hai eliminato per sempre la morte dalla mia vita e dalla mia famiglia. E donami di guardare al cielo come la meta da raggiungere, la meta perfetta della mia vita, dove starò con i miei cari, con i miei amici per sempre insieme a te. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, coraggio, rallegriamoci, esultiamo. questa è una gioia di fede, ma è una gioia di un Dio che ama concretamente e oggi ce lo manifesterà anche a te nella tua vita. Grazie che mi avete accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della coinonia Giovanni Battista, Oasi di Piella. A domani, ciao! A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. insegnami i Tuoi sentieri, guidami nella Tua fedeltà e istruiscimi, perché sei Tu il Dio della mia salvezza. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. Buono e retto è il Signore. indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia.